Si dice che le cose peggiori capitino a chi meno se lo merita e ragazzi questa storia tristissima ne è decisamente la prova. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e controllare sotto il letto perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Nella storia di oggi parliamo di Jesse Blodgett, o meglio della talentuosissima Jesse Blodgett. Jesse nasce appena fuori dalla città di Atlanta in Georgia, precisamente ci troviamo nel sobborgo chiamato Marietta. La piccola avviene al mondo nel 1994, i suoi genitori sono Buck e Joy Blodgett. Parliamo di due genitori amorevoli, affettuosi e dolcissimi. Per loro Jesse è un vero miracolo, questo perché da anni ormai avevano accettato di non poter praticamente mai essere una mamma o un papà. Non è proprio chiarissimo il motivo, ma fatto sta che la signora Blodgett ad un certo punto scopre di essere incinta. Quindi per lei e per Buck tutto questo è meraviglioso. Proprio non se lo aspettavano, era come se per qualche motivo che non conosciamo lei non potesse concepire. Quindi immaginate la felicità nel scoprire una cosa del genere. Sappiamo comunque che il parto è avvenuto in casa e che è andato tutto bene. Jesse viene quindi al mondo in una famiglia che la ama e si prende cura di lei con tanto tanto amore. Ad ogni modo la famiglia alla fine non resta molto tempo ad Atlanta e si trasferisce nella città di Hartford, nello stato del Wisconsin. Non si conosce il motivo di questo trasferimento, forse è stato per il lavoro di Buck o forse perché lì avevano dei parenti. Sta di fatto che la cittadina di Hartford di per sé è davvero carina. Ci sono posti molto belli da vedere e ha una popolazione di circa 15.000 abitanti. Ci sono parchi molto belli e le persone che ci vivono si trovano bene. Diciamo che si vive una vita serena e tranquilla. Purtroppo però il 18 giugno 2006 Hartford è stata colpita da un tornado di tipo F1, cioè un tornado classificato come moderato, che però ha fatto dei grossi danni alla parte meridionale della città. Circa 147 residenze hanno subito dei danni. Parliamo di tronchi di alberi spezzati che hanno colpito le abitazioni o anche di gravi danni strutturali. Per esempio il tetto della Lincoln Elementary School, una scuola elementare, è stato completamente distrutto ed è stato riportato qualche infortunio ma nessun decesso per fortuna. Adesso questo evento viene ricordato ma non sembra essersi ripetuto. Comunque tutta questa parentesi per dirvi che la città di Hartford è una città americana come tante altre. C'è stato qualche evento triste accaduto anni fa ma in sostanza è una città vivibilissima. Anzi è anche famosa per alcuni locali e spazi ricreativi. In tutto ciò la famiglia Blodgett si stabilisce in una normalissima e tipica casa statunitense a due piani. Davvero niente di particolare comunque, semplice semplice. Si trovano in una zona con del verde intorno e sono anche abbastanza distanti dal centro. Ed è proprio in questa casa normalissima, in questa città normalissima, che Jesse, anni dopo, senza saperlo, incontrerà un mostro. Fin da molto piccola, Jesse dimostra di avere un talento quasi nato per la musica. Sembra proprio portata, come se ce l'avesse scritto nel DNA. Da bambina impara a suonare il pianoforte, il violino e inizia anche a cantare. Le piace così tanto suonare il pianoforte che una sua amica, per esempio, dice che quando andava a trovarla doveva urlare il suo nome per distrarla un attimo o per dirle che era arrivata. Perché Jesse era sempre lì sulla tastiera immersa nel mondo della musica. E la gente rimane molto affascinata dal suo talento. Ma questo non è l'unico motivo per cui le persone si affezionano a lei. Per quanto sia una piccola Mozart, il suo vero punto di forza è il suo carattere. Nel senso che Jesse è una bambina così dolce e disponibile che si circonda facilmente di persone che le vogliono bene. Ma purtroppo non attira solo persone per bene. Perché a quanto pare a qualche bambino stupido piaceva bullizzarla. Ovviamente questi episodi si possono verificare ovunque e in qualsiasi contesto, specialmente nelle scuole. Poi in questo caso molti bambini in realtà sono invidiosi di Jesse. Invidiosi del suo talento nella musica e della sua dolcezza. E direi che è abbastanza normale. Immaginate di averla come compagna di classe. Perfetta in tutto e con un talento sbalorditivo. Ma un conto è dire cavolo vorrei essere come lei. Un altro invece è il bullismo. Magari tra di voi c'è chi ha subito bullismo proprio perché era come Jesse. Purtroppo è pieno di persone costrette a subire queste cattiverie solo perché sono più brillanti del normale. E questi episodi fanno perdere la speranza. Se prima si pensa di avere come un dono speciale, dopo ci si butta giù. Si pensa di non essere abbastanza. Perché chi bullizza prova a trascinare giù la vittima e portarla al suo stesso livello per non sentirsi inadeguato. Davvero una cosa tristissima. Ma al di là di questo discorso, Jesse sostanzialmente se ne frega di queste cattiverie. E riesce sempre a mantenersi creativa, disponibile, gioiosa e amante della musica. Alla faccia di chi le vuole male. Il suo modo di parlare incanta, nessuno può resisterle, è una vera bambina prodigio. È una persona splendida che cresce in un ambiente in cui viene amata, non da tutti, ma da molti sì. Compresi i suoi genitori, più di tutti. Fortificata da queste persone che la sostengono e le vogliono bene, Jesse diventa quasi una paladina per chi è oppresso. Ma non solo. Già da giovane si interessa a tematiche come la violenza sugli animali, la difesa dell'ambiente e la giustizia. E in futuro vorrebbe che si sensibilizzasse molto sull'argomento. Cioè, vedete quante qualità ha Jesse. I suoi genitori sono fieri di avere una figlia così arguta, responsabile, intelligente e sensibile, oltre che talentuosa. È il sogno di ogni genitore. Penso che tutti avrebbero voluto Jesse come figlia. E in generale penso che molti avrebbero voluto anche solo, come conoscente Jesse, una persona che da adulta avrebbe spaccato i culi a tutti e che sicuramente avrebbe reso il mondo un posto migliore. Tornando alla sua vita, diciamo che si diploma nel 2012 e a quel punto è molto popolare tra gli insegnanti e tra i suoi coetanei, malgrado l'invidia di qualcuno. Ovviamente lei ha grandi aspirazioni, vuole cambiare il mondo, renderlo un posto migliore, o quantomeno fare delle cose belle per la gente in generale, anche usando il suo talento. Quindi saggiamente, almeno all'inizio, pensa di usare il suo talento nella musica per raggiungere una posizione sociale e lavorativa rispettabile. Decide di studiare ancora per diventare direttrice di un coro, o per un'università, o per le scuole superiori. Effettivamente già si muove su questo campo, arrivando a dirigere circa un centinaio di giovani con cui inevitabilmente interagisce. Insegna non solo come cantare, ma diffonde anche le sue idee. È una giovane donna empatica e disponibile. Lo era sempre stata, ma adesso è in grado di dimostrarlo. Ed è anche in grado di dare degli strumenti ai giovani per vedere il mondo come lo vede lei. O meglio, come vorrebbe che fosse. Quindi riesce a fare tutto questo perché nell'autunno 2012 si iscrive al programma di educazione musicale dell'Università del Wisconsin, a Milwaukee. Sì, il posto in cui viveva Jeffrey Dahmer. Lei comunque è una studentessa, ma nel programma di musica, come già vi ho detto, interagisce con i coetanei e assume quasi un ruolo di insegnante, per quanto è brava. Trascorre un intero anno e tutti sono meravigliati di quanto fosse favolosa Jesse. Per questo le viene offerta una borsa di studio per l'anno successivo. Praticamente solo con i suoi meriti si paga l'anno successivo all'università. Il che non è da poco se consideriamo che le spese in America sono altissime. Praticamente dovete vendervi un rene per andare al college. Vi basti pensare che tantissimi studenti sono indebitati fino al collo ancora prima di aver trovato un lavoro, solo per potersi pagare il college. Ma tornando a Jesse, finito il primo anno a Milwaukee, torna alla sua città natale, Hartford. Lì passa l'estate con la sua adoratissima famiglia. I suoi cari e i suoi amici le vorrebbero stare vicino, passare l'estate insieme a lei. Ma figuratevi, Jesse è talmente presa dalla sua vocazione da cancellare proprio la parola vacanza dal suo vocabolario. Quindi piuttosto che godersi l'estate, lei si mette a insegnare canto, pianoforte e violino. Fa da insegnante di musica principalmente ai bambini. E pensate che circa 25 bambini diventano a tutti gli effetti suoi allievi. Il che non è male se consideriamo la giovanissima età di Jesse. Cioè a quel punto non ha neanche 20 anni. Ed è di sicuro più brava di me a fare qualsiasi cosa. Jesse però non si limita a suonare e insegnare, anzi. Scrive anche canzoni e spesso le scrive in compagnia di un suo carissimo amico. Un ragazzo di nome Daniel Bartelt. Chiamato da tutti Dan. Questo Dan è un amico che, a livello di passione in comune, si incastra bene con la nostra Jesse. Anche lui è un musicista a provetto. E pare che una canzone fatta insieme a Jesse sia stata caricata su YouTube. Questa canzone a quanto capito non ha un vero e proprio titolo, ma qualcuno l'ha caricata qui su YouTube. Non posso farvela sentire qui per via del copyright, ma vi metto il link qui in descrizione. Se non trovate il link significa che me ne sono dimenticato, quindi scrivete un commento dicendomi di mettere sto link. Comunque a Dan non piace solo la musica, ha anche una passione per il teatro. Tanto che riesce a far appassionare Jesse anche a questa forma d'arte. Proprio quell'estate, infatti, Dan viene preso per uno spettacolo della riproposizione del celebre Il Violinista sul tetto. Che sarebbe un musical di Broadway, da cui è stato tratto anche un film. Dan ha proprio il ruolo del violinista e apre lo spettacolo in maniera sensazionale. Lui, come Jesse, è un talento naturale della musica. Nello specifico, comunque, lo spettacolo Il Violinista sul tetto va in scena il 12 luglio 2013 alle 19.30. E la platea è piena di persone entusiaste. Anche Jesse partecipa a questo evento e ovviamente fa una figura grandiosa. Ma tutti nel cast quel giorno sono stati grandiosi e il pubblico lo conferma. È stato talmente tanto un successo in città che venne visto da tanta altra gente il giorno dopo, alla seconda replica del 13 luglio 2013. Alla stessa ora, 19.30. E poi anche alla terza replica, domenica 14 luglio, ma ad un orario diverso. Questa volta nel pomeriggio, alle 14.00. I più furbi forse hanno già intuito il motivo per cui sono stato così specifico nel dirvi questi dettagli sugli orari e le date. Ebbene, purtroppo, ci stiamo avvicinando a quella fase della storia in cui vediamo accadere una serie di situazioni problematiche, strane e che fanno presagire il peggio. Tenete a mente tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Dalla vita incredibile di questa ragazza prodigio, all'amicizia con questo Dunn, fino a questi spettacoli teatrali. Perché da qui comincia una macabra e inesorabile discesa verso l'oscurità. Dopo l'esibizione delle 14, del 14 luglio 2013, Jesse, Dunn e il resto del cast vanno a casa di uno di loro per fare una festicciola così, senza impegno. La casa in cui vanno è di uno che ha partecipato allo spettacolo. E si tratta di una casa con una bella piscina. Quindi pensano che sia carino prendere qualcosa da bere e da mangiare e andare lì per divertirsi un po'. Cioè, alla fine avevano fatto tre spettacoli in tre giorni. Quella festa per loro è come una sorta di mini vacanza. Un momento di libero sfogo dopo questi tre giorni di lavoro molto intenso. Jesse, quindi, va alla festa in costume. È felicissima, ride, scherza e si diverte. Insomma, si gode la festa tranquillamente. Eppure qualcosa deve essere andato storto. Qualcosa durante la festa deve averla turbata, forse addirittura terrorizzata. La ragazza, 19 anni al tempo, lascia il party e torna a casa verso mezzanotte. Sua madre Joy è ancora sveglia e l'accoglie in casa felice. Le chiede come è andata alla festa in piscina, ma appena la vede entrare in casa, le sembra strana. Sul viso di Jesse sono dipinte una serie di espressioni ambigue e non piacevoli. Come se avesse visto, sentito o subito qualcosa che non l'ha fatta stare bene. Non ha segni particolari sul corpo che magari avrebbero potuto suggerire qualcosa. È proprio la sua espressione il problema. Ha qualcosa che non va e sua madre lo capisce quasi al volo. A questo punto le chiede cosa fosse successo e Jesse parte quasi a razzo a fare un lungo discorso. Ma poi si ferma di colpo e comincia a dire delle cose un po' vaghe, quasi minimizzandole. Spiega a sua madre Joy che ci sono dei ragazzi del cast del teatro che alla festa sono stati un po' appiccicosi. Fa intendere che due di questi ragazzi ci abbiano provato con lei e che si sentisse fortemente a disagio per questo. Dopotutto erano suoi amici e lei non voleva che si creasse questo imbarazzo tra loro. Joy, sua madre allora, continua a farle domande per capire se questa faccenda fosse seria oppure no. Nel senso che vuole capire se c'è da preoccuparsi in termini di molestie oppure se si sia trattato di qualcosa di poco conto, senza niente di fisico o eccessivamente verbale. Jesse però continua a essere vaga, non fa nomi né specifiche, ma sembra davvero turbata. Alla fine però quel dialogo finisce presto e mamma e figlia si danno la buonanotte. Jesse va in camera sua e si mette a dormire. Quel giorno intenso e strano finisce così. Il mattino seguente Buck, il padre di Jesse, e sua moglie Joy si svegliano verso le 7 del mattino. Vedono che Jesse sta ancora dormendo, ma sanno che è stata fuori con gli amici la sera prima e ci sta che abbia ancora sonno. Sanno che verso mezzogiorno ha in programma una lezione di musica con un suo allievo, quindi ci sta che a quell'ora, alle 7, lei volesse ancora dormire. Di sicuro si sarebbe svegliata più tardi. La madre, Joy, verso le 8, le mette dei vestiti puliti in camera, entra e la vede nel letto che dorme tranquilla. Così Buck e Joy vanno a fare le loro commissioni, vanno per le loro strade e per i loro rispettivi lavori. Joy, in particolare, finito il lavoro in ufficio, torna a casa verso mezzogiorno per pranzare. Sicura di trovare Jesse già sveglia per la sua lezione di musica. Eppure una volta entrata sente un silenzio di tomba, nessun rumore, nessuno strumento musicale che suona, nessuna voce, niente di niente. Possibile che sua figlia fosse uscita? Possibile che sia rimasta a letto per tutto questo tempo? In effetti Jesse ha sempre avuto qualcosa da fare, ha sempre avuto poco tempo libero e dopo quella festa in piscina forse aveva anche senso che dormisse fino a mezzogiorno. Eppure a Joy sembra davvero strana questa situazione. Va per le scale e urla il nome della figlia, ma non ottiene risposta. In quel momento pensa davvero che fosse rimasta addormentata. Così le urla di svegliarsi perché lo studente di musica a cui aveva dato un appuntamento sarebbe arrivato da un momento all'altro. Così Joy va in cucina e si prepara il pranzo, sicura che presto Jesse sarebbe scesa da quelle scale. Ad un certo punto però bussano la porta ed è proprio quello studente. Lo fa accomodare e gli dice che Jesse molto probabilmente sta ancora dormendo. Gli dice anche di aspettare un attimo e che sarebbe andata su in camera per svegliarla. Così Joy sale le scale, apre la porta della camera di sua figlia ed effettivamente la vede ancora lì a letto. Si avvicina, fa per toccarla, per svegliarla e le dice che è arrivato lo studente e che la sta aspettando giù. Ma nell'esatto momento in cui Joy guarda sua figlia in pieno volto, rimane immobile, completamente sopraffatta dal terrore. Nota che Jesse è rigida, fredda, ha un colorito innaturale e ha i capelli bagnati. Nella sua testa si scatena il panico e così completamente terrorizzata chiama il 911. Non riesce a spiegare molto all'operatrice e dal tone di voce si sente che è distrutta da quello che ha davanti. Dice che sua figlia ha un colorito blu astro, che ha segni di strangolamento attorno al collo e che non respira. Fornisce l'indirizzo di casa e aspetta i soccorsi. Intanto tira Jesse fuori dal letto e delicatamente l'appoggia per terra. Le mette un cuscino sotto la testa e prova a fare pressione sul torace per farla riprendere. Ma è già troppo tardi. Anche i medici e la polizia, quando arrivano, si rendono conto che non c'è più niente da fare. Jesse non è più in vita. Anche loro notano i segni di uno strangolamento e non credono che la ragazza a 19enne sia morta così da sola. Cioè, qualcuno l'ha uccisa. Qualcuno deve essere entrato in quella casa quella mattina. Qualcuno che Jesse conosceva perché non ci sono segni di effrazione. Ma chi è stato? E soprattutto perché? Partono così le indagini. Ok, tanto per cominciare, Jesse non ha segni solo sul collo, ma anche sui polsi e sulle caviglie. Come se fosse stata immobilizzata o addirittura legata. Ha i capelli bagnati e sembra che si fosse cambiate i vestiti o che qualcuno le avesse cambiato i vestiti. È stata anche legata con delle corde, ma in tutta la casa o nella stanza, che è ormai diventata una scena del crimine, non si trova alcun oggetto di questo tipo. Il padre Buck, al ritorno a casa, vede le volanti della polizia e dell'ambulanza e ovviamente si preoccupa tantissimo, subito. Viene informato di ciò che è successo e per lui questo è un durissimo colpo al cuore. Buck non può credere ai suoi occhi e alle sue orecchie. Si tratta di un omicidio senza alcun senso. Perché mai qualcuno avrebbe strangolato Jesse? Qualcuno di invidioso come i bugli a scuola? Nessuno ha mai provato però a farle del male concretamente. È semplicemente assurdo. Chi è entrato in quella casa senza scassinare o rompere nulla? Se era un estraneo, perché la camera di Jesse non è in disordine? Si sarebbe ribellata, giusto? Insomma, queste e altre infinite domande bombardano la testa di tutti. Anche degli addetti ai lavori. Devono trovare una quadra a tutto quanto e, come si fa sempre in questi casi, iniziano ad indagare i suoi conoscenti della vittima. Il detective a capo dell'intera operazione parte dal presupposto che il colpevole è per forza qualcuno che Jesse conosceva. Qualcuno che era interessato solo a lei, qualcuno che sapeva come entrare in quella casa, che sapeva non rendersi sospetto agli occhi di Jesse e sapeva anche come uscire di casa senza problemi e senza lasciare alcuna traccia. I primi a parlare con la polizia sono ovviamente i genitori della vittima, che avanzano delle ipotesi. Buck, il padre, racconta di due giardinieri che spesso potano i rami degli alberi che crescono accanto alla loro proprietà. Racconta ai detective di come Jesse si fosse lamentata con i genitori per il modo in cui uno di questi giardinieri si stava comportando. Praticamente uno di loro, diciamo che, urtava per sbaglio il corpo di Jesse, ma con l'evidente intento di toccarla. L'altro collega addirittura ne era al corrente e ci rideva sopra. Buck allora sospetta un po' di loro, o almeno di uno di loro, ma Joy, la madre, porge l'attenzione di tutti su un altro possibile sospetto. Dice che Jesse era tornata a casa dopo la festa ed era scioccata e scossa per via di alcune avance ricevute da due ragazzi del cast dello spettacolo teatrale. Quelli del cast sono pressoché tutti i suoi amici. Alcuni di loro erano già entrati in quella casa, conoscevano Jesse, e lei si sarebbe potuta fidare di loro. Avrebbe potuto farli entrare senza problemi. Così in ordine i detective interrogano i giardinieri, e dopo averci parlato un po', li escludono entrambi dalle indagini. Nel frattempo tutte le prove raccolte dalla scena e dallo stesso corpo della vittima sono sotto analisi. Come sapete però serve un po' di tempo prima di avere dei risultati, ma intanto si procede con l'indagine. I due ragazzi più grandi del cast dello spettacolo vengono interrogati. Erano due di quelli che Jesse quella sera aveva ritenuto fastidiosi e inquietanti. Quindi si inizia a sospettare di loro, e gli agenti procedono con gli interrogatori. Dopo pochissimo tempo, uno di loro viene subito scagionato perché ha un alibi intoccabile. Mentre l'altro, un ragazzo di nome Randy, non ha modo di provare il suo alibi. E renderlo ancora più sospetto è un'annotazione che la stessa Jesse aveva lasciato sul suo diario personale. Un'annotazione che fa pensare sempre più male su questo Randy, ma anche sull'altro tizio in realtà. Praticamente la sera in cui è tornata a casa dalla festa, Jesse è salita in camera e sul suo diario ha scritto che Randy e l'altro tizio la stessero corrompendo. Cito. Fa intendere che si è creata una sorta di competizione, forse intendendo una competizione per portarsela a letto. E questa competizione, scrive, li stava portando a molestarla. Scrive, nelle righe finali, che si aspettava un confronto diretto con loro, quindi una sorta di scontro fisico, e conclude dicendo che Dio sia con me. Tutto quindi fa pensare che questo Randy e il suo amico rappresentassero una sorta di pericolo per lei. Ma dato che l'altro tizio era stato scagionato, Randy diventa il primo serio sospettato. Una serie di controlli futuri faranno in modo di scoprire se lui avesse effettivamente un alibi oppure no, ebbene alla fine si scopre che ce l'aveva. Per quanto fastidioso o pericoloso per la vittima, non è risultato niente di compromettente. Non ci sono messaggi o chiamate tra lui e Jesse, e nessun altro avanza testimonianze in suo sfavore. Ma cosa più importante, il suo cellulare trasmetteva segnali da tutta altra parte il giorno della morte di Jesse. Ok, però molti tra i detective sospettano comunque di lui, pensano che avrebbe comunque avuto un modo di ucciderla, ma appunto lo sospettano e basta. Non c'è alcuna prova, solo supposizioni. Specialmente in America, fino a prova contraria, si è innocenti. Così la pista di questi due ragazzi viene accantonata. Ma non preoccupatevi, l'indagine non si ferma. Anzi, fortunatamente arriva un'altra pista migliore. Una pista che porterà gli agenti a trovare il vero colpevole. E oh mio Dio. Per parlarvi di questa pista, però, dobbiamo parlare prima di un altro caso. Di un'altra persona diversa da Jesse, e presto capirete il perché. Quindi per il momento distacchiamoci un attimo dal caso di Jesse, e parliamo di lei. Solo tre giorni prima dell'omicidio di Jesse Blodgett, una giovane donna di nome Melissa Etzler, stava portando a spasso il suo cane in un parco locale. Aveva parcheggiato la sua macchina all'ingresso di questo parco, e aveva notato un minivan blu scuro con dentro un tipo che le sembrava sospetto. Dopo 30 minuti di camminata con il suo cane, fece per dirigersi verso la sua auto, per andarsene. Ma sentì come qualcuno che camminava dietro di lei. Si girò di scatto e vide che era la stessa persona che era dentro il minivan blu. A quel punto disse qualcosa del tipo, oh scusa mi hai spaventata. Ma non si preoccupò troppo. Lui però non disse nulla, e si limitò a fissarla. Allora lei si voltò di nuovo, e continuò ad andare verso la sua macchina. Ma ricominciò a sentire dei passi dietro di lei. Di nuovo si girò, e di nuovo lo vide, immobile, con lo sguardo fisso. Ma stavolta aveva un coltello in mano, come un coltello da pesce, molto particolare. A quel punto Melissa capì che quel tizio era una persona con pessime intenzioni. Cercò di scappare, ma lui la raggiunse, e da lì partì una lotta all'ultimo sangue, letteralmente. Lui tentò continuamente di pugnalarla allo stomaco, ma Melissa per fortuna riuscì a difendersi. Addirittura riuscì a sopraffarlo, bloccandogli il coltello, e riuscendo a avvolgere la situazione a suo vantaggio. A quel punto l'aggressore, non aspettandosi questo risvolto e disarmato, le chiese se potesse andare via. Al che la donna gli rispose di no, assolutamente. Ma intanto lui riuscì in qualche modo a scappare. Corse nel suo minivan, e sfrecciò a tutta velocità. Melissa aveva riportato delle ferite alle mani, quindi entrò in auto con il suo cane, lanciò il coltello su sedile accanto, e si recò subito all'ospedale. Lì la curarono mettendole dei punti di sutura, e a sua sorpresa arrivò anche un detective a farle visita. Melissa ovviamente era ancora sotto shock per l'accaduto, cioè aveva rischiato di morire, e di sicuro non poteva raccontare tutto in maniera super lucida in quel momento. Comunque per quanto traumatizzata, fu davvero brava. Riuscì ad essere, a dir poco, esaustiva nel raccontare la sua esperienza. Scese così tanto nei dettagli che il detective quel giorno disse che Melissa è stata la migliore testimone che avesse mai incontrato in tutta la sua intera carriera. Ha raccontato tutto all'uomo, specificando ogni dettaglio, anche quello del coltello. A quel punto il detective, che era andato a trovarla, le chiese se ricordasse l'aspetto di quest'uomo, e lei, per fortuna, si ricordò tutto. E disse È un maschio bianco tra i 18 e i 20 anni, alto circa 1,80 m, e peserebbe circa 90 kg. Ha i capelli biondi, la pelle molto chiara, e portava dei pantaloncini scozzesi. Ha poi raccontato che questo goffo criminale guidava un minivan blu scuro Dodge Caravan. Non sapeva di che anno fosse il modello, ma intuiva fosse vecchiotto, tipo un modello del 2000 o del 2002. Grazie a queste preziosissime informazioni e a questa dettagliata testimonianza, le autorità misero queste informazioni, in particolare quella del veicolo, a disposizione della comunità, cosicché qualcuno potesse farsi avanti. Quindi perché abbiamo parlato di tutto questo? Cosa c'entra l'aggressione a Melissa con il caso di Jesse? Ebbene, ciò che collega a questi due casi è proprio il minivan blu scuro. Infatti, il 16 luglio 2013, il giorno dopo la morte di Jesse, un deputato del dipartimento di polizia si è fatto avanti e ha detto di riconoscere quel veicolo. Ha visto il volantino con le specifiche ed è stato in grado di fornire addirittura la targa. Questo perché il giorno dell'aggressione di Melissa, quest'uomo era lì, e aveva notato che il guidatore di quel minivan era un tipo strano. Così si era segnato la targa, per sicurezza. E beh, che dire, come avete visto, la prudenza non è mai troppa. Se avete una strana sensazione riguardo qualcuno o qualcosa, ascoltatela. Anche al costo di risultare dei pazzi paranoici. Questi piccoli gesti possono essere utilissimi e a volte salvare anche la vita a qualcuno. Ma comunque è inutile dire che dalla targa si risale facilmente al proprietario, perciò fanno proprio questo. Ma il proprietario del minivan non corrisponde alla descrizione di Melissa. Il nome collegato a questo veicolo non sembra essere la stessa persona che quel giorno cercò di ucciderla. È davvero strano questa cosa, ma quell'uomo delle forze dell'ordine è convinto che si tratta proprio di quel minivan. Perciò è strano che il proprietario non corrisponda all'aggressore. Ma questo proprietario, un signore di una certa età, ha un figlio. Interrogando l'uomo, il proprietario e sua moglie, hanno scoperto che la coppia ha un figlio di 20 anni, alto circa 1,80 m, ed ha il peso di circa 90 kg. Esattamente come è descritto da Melissa. La coppia quindi dà agli agenti il nome e il numero di telefono di questo ragazzo. I investigatori credono che lui, oltre ad aver quasi ucciso Melissa, avesse anche tolto la vita a Jesse. Perché? Beh, perché lui è Daniel Bartelt. Chiamato da tutti Dan. L'amico di Jesse. Dan è quello del cast che ha fatto il violinista durante lo spettacolo. Quello che condivideva con Jesse molti interessi. Quello che aveva inciso una canzone con lei, che possiamo trovare su YouTube. Il ragazzo che l'ha avvicinata allo spettacolo. Lo stesso che era alla festa insieme a lei. E lo stesso che tre giorni prima della morte della ragazza, aveva tentato di uccidere Melissa. Ecco quindi il collegamento di cui parlavo. Dal minivan sono risaliti a lui. Dan. Il ragazzo che ha tentato un omicidio. E che molto probabilmente ne ha compiuto uno. Quello di Jesse. Il giorno in cui i detective lo chiamano per il caso di Melissa, lui è insieme ai genitori di Jesse. E anche insieme a tutti i suoi parenti. E a casa loro per una veglia in ricordo della vittima. Dan pare triste ed empatico con la famiglia. D'altronde era molto legato a Jesse. Quando risponde ai detective, gli viene detto di recarsi in centrale per rispondere a delle domande. E lui, senza neanche chiedere il perché, dice semplicemente va bene. O qualcosa così. In pratica non chiede nulla. Per lui è ok e accetta. Condivide questa cosa con i familiari di Jesse. E loro lo rassicurano. Dicendogli che la polizia avrebbe interrogato tutti quelli che avevano a che fare con Jesse. Però nessuno sa in quel momento di aver sempre avuto al proprio fianco un bugiardo, un sociopatico e un assassino. Perché sì ragazzi, è stato lui ad uccidere Jesse. Infatti si reca in centrale e l'interrogatorio comincia ufficialmente. All'inizio gli agenti lo interrogano sul caso di Melissa e dopo neanche troppo tempo alla fine conferma di essere stato lui l'aggressore. Ma dopo una serie di altre domande e una serie di controlli fatti in casa sua, si arriva anche a tutta la verità. Il ragazzo prova a mentire più volte agli investigatori ma alla fine cede e senza mostrare alcun rimorso o alcun dispiacere, ammette tutto quanto. Non sembra mostrare neanche rabbia o frustrazione o altro. Sembra rilassato in modo inquietante. In casa sua viene trovata il tipo di corda che era stata usata per legare Jesse. E andando a curiosare nelle zone in cui era stato Dan, trovano dei rifiuti. Dentro questi rifiuti trovano delle salviettine imbevute d'alcol, delle corde e un bavaglio. Oltre a questi oggetti esaminano ancora più a fondo la scena del crimine e in un modo o nell'altro trovano il suo DNA. Anzi lo trovano su uno degli oggetti del crimine sulla scena. E dal DNA ragazzi non si sfugge. Quella è una prova schiacciante contro cui si può fare ben poco. Così tutto si rivolta contro di lui. Dan è l'assassino di Jesse Blodgett e per questo viene arrestato. Ok le prove ci sono, la sua testimonianza c'è. Ma c'è ancora una gigantesca domanda rimasta in sospeso. Perché? Perché Dan, così amico di Jesse, un ragazzo così talentuoso nella musica, avrebbe quasi ucciso Melissa e poi ucciso Jesse. Che era come una migliore amica. Lui oltretutto ha anche affermato di averla stuprata prima di strangolarla. Ha raccontato di aver guardato degli snuff movie prima di compiere il suo gesto. E in questi film ha visto che qualcuno veniva strangolato e poi l'assassino lavava il suo corpo e lo rimetteva al suo posto. Lui quindi ha seguito il film alla lettera. Ed ecco spiegati i capelli bagnati di Jesse. Per chi non lo sapesse, comunque piccolo parentesi, uno snuff movie è uno di quei film o semplici video che mostrano torture e omicidi reali. Ovviamente si tratta di contenuti illegali perché riprendono delle reali azioni disgustose e fin troppo violente. Vi lascio immaginare. Comunque Buck e Joy, i genitori di Jesse, quando scoprono la verità, rimangono sconvolti. Per tutto quel tempo sono stati ingannati da questo finto bravo ragazzo, Daniel Bartelt. Il giovane viene riconosciuto colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo senza condizionale. Sembra che tutti siano d'accordo su una cosa. Dan, nel profondo, è una persona malvagia. Anche perché alla sua condanna il ragazzo ha avuto la possibilità di parlare con i genitori di Jesse. E pensate, non si è scusato né si è assunto le sue responsabilità. Anzi, ha detto loro queste parole. Cito. Buck, Joy, non posso darvi le risposte che state cercando. Questa tuta che indosso, questa catene che mi mettono, non mi rendono colpevole. Non posso dimostrare di essere innocente a nessuno, nemmeno a me stesso. Non posso provare che il sole, che non vedo da più di 400 giorni, sorga e tramonti ancora. Ma mi piace credere che sia così. Sto soffrendo ora più di quanto abbia mai fatto prima. Ma la mia coscienza è a posto. Fine citazione. Oggi, Daniel Bartelt è ancora dietro le sbarre al Wupon Correctional Facility, a West Bend, nel Wisconsin. Non ha diritto alla libertà condizionale e trascorrerà il resto dei suoi giorni in prigione. Ancora oggi non si capisce davvero il perché abbia fatto quello che è fatto. Col tempo si spera che da quella prigione venga fuori una diagnosi psichiatrica che possa spiegare e riprendere il passato di questo ragazzo. Così da almeno provare a trovare un senso alle sue azioni. Perché se ci pensate è solo questo che manca. Il movente. A volte è incredibile quanto a questa importantissima domanda non ci sia una risposta. O meglio c'è, ma è così difficile averla che forse non l'avremo mai. Forse in certi casi dovremmo solo accettare certe circostanze, senza stare a interrogarci troppo sul perché della vita e di ogni cosa. Un po' come hanno fatto i genitori di Jesse. Loro, pensate, una cosa che non mi aspettavo, hanno perdonato Dan. Sono andati avanti e hanno trasformato il loro dolore in forza. Davvero ragazzi, bisogna prendere queste persone come esempio. Perché se ci pensate, essere il genitore di una vittima di omicidio ti pone davanti a tre scelte. La prima è accettare la morte e andare avanti facendo qualcosa di costruttivo per te o per altri. La seconda è provare odio e rancore a vita, facendoti rimanere in un limbo senza fine dentro cui rimarrai per il resto dei tuoi giorni. E la terza è la scelta più terribile, farsi giustizia da soli, ovvero andare ad ammazzare i colpevole. Con tutte le conseguenze del caso, ovviamente. Buck e Joy hanno avuto la forza di fare la scelta più giusta. Hanno fondato un'associazione che promuove le stesse idee e gli stessi benefici che Jesse voleva portare nel mondo. La fondazione si chiama The Love, segno del maggiore, Hate Project. Quindi praticamente è il progetto dell'amore che è più forte dell'odio. I genitori di Jesse sono i fondatori e organizzano incontri, presentazioni e dialoghi con detenuti e gente di ogni tipo. Il fine? Sensibilizzare su vari temi. Tutti i temi a cui Jesse era molto legata e se lei per ovvi motivi non ha potuto combattere le battaglie che voleva combattere, allora ci penseranno e ci stanno pensando i suoi genitori. E ovviamente anche tutti quelli che, spinti dallo splendido ricordo di questa ragazza, hanno scelto di seguirla e portare avanti i suoi ideali. Voglio ora riportarvi le parole strazianti presenti sul sito di questa fondazione. Sono le parole di Buck, suo padre, e credo che nessuno meglio di lui possa farci capire il dolore che questo caso ha provocato. Credo che sia la prima volta che vi dico le esatte parole di uno dei parenti delle vittime, e oggi lo voglio fare perché davvero credo sia fondamentale per capire appieno questa vicenda e per immedesimarci nelle persone che l'hanno vissuta. Spero che non schipperete quest'ultima parte perché per me è la più importante, e una volta che l'avrete sentita, sono sicuro che lo sarà anche per voi. Ok, ora cito le parole di Buck Blodgett. E poi sento una nuova fitta del vecchio dolore. Come posso descrivere il dolore di questa perdita? Non posso. È lì sullo sfondo, e spesso in primo piano, nella mia vita, ogni secondo, non andrà mai via. Altri mi dicono che mi adatterò a questa situazione, imparerò a vivere bene con questo dolore, cosa che faccio già. Ma rimarrà lì, e non se ne andrà mai. Per 457 giorni ho visto piangere mia moglie Joy, ogni giorno, e incapace di mettere da parte il suo dolore. Gli amici di Jesse sono stati fantastici. Ora sono tutti al college. Molti di loro vengono a trovarci quando tornano a casa dal college. Vorrei che anche Jesse tornasse a casa dal college. Un giorno inizieremo a ricevere gli inviti di nozze dai suoi amici. Nick, il giocatore di football e di wrestling, il tranquillo Nick, il fidanzato di Jesse in terza media, ha bussato alla porta un giorno e mi ha fatto sobbalzare il cuore. Ha detto, Jess, è stata la prima persona a cui abbia mai detto ti amo. So che non potremmo mai più organizzare un nostro matrimonio, quindi quando mi sposerò, ti inviterò. So che un giorno vedremo sposare lui e gli altri amici della nostra Jess. Mi sarebbe piaciuto un giorno accompagnare mia figlia all'altare, affidare le sue cure a un bravo ragazzo che l'avrebbe amata come hanno fatto gli altri suoi amici con le loro rispettive moglie e mariti. Vorrei poterla vedere raggiante di orgoglio e felicità, il giorno del suo matrimonio. La nostra Jess è nata in casa con un parto naturale, senza farmaci, senza dottore, solo Cynthia, la nostra ostetrica. Mia madre, sua nonna, era lì per vedere quella piccola testolina venire al mondo. Anche Jess avrebbe potuto essere una madre. Non vedevo l'ora di essere lì per veder nascere i suoi figli, i nipoti che non ho mai avuto. È stata derubata dei giorni più importanti della sua vita, del giorno del suo possibile futuro matrimonio e la nascita dei suoi futuri figli. E ora sono derubato di vivere quei giorni con lei. Non vedevo l'ora di diventare nonno, di avere nipoti che mi idolatrano come io idolatravo mio nonno. Nipoti che insieme a me, a noi, avrebbero voluto disperatamente andare a pescare, giocare a golf e fare escursioni nei boschi. Non accadrà mai adesso. Per quanto riguarda la mia opinione sulla condanna di Daniel, la lascio al giudice. Ora non desidero più vendetta o punizione. Non credo neanche che Jess volesse tutto questo. Ma so che vorrebbe che un atto di violenza così crudele ed egoistico ricevesse una punizione adeguata in modo da essere un deterrente per gli altri. E naturalmente, soprattutto, non possiamo permettere che un'altra vita innocente vada persa. Dan, ti perdono. Come ho fatto ogni giorno da quando ho saputo che eri stato tu, credo che ci sia del buono e del cattivo in ognuno di noi. Quindi non ti demonizzo, né ti diffamo. È troppo facile. Al male che vive in te, che hai scelto di seguire, dico questo. È stata una sconfitta monumentale per il male e una straordinaria vittoria per l'amore. Tu, male, hai rubato la vita e il futuro di Jesse. Hai avuto potere e dominio sul suo corpo per pochi minuti. Ma mai per un secondo hai avuto un grammo di potere o controllo sul suo spirito, sul suo cuore, sulla sua volontà, sulla sua grazia, sulla sua straordinaria bontà e sul suo profondo amore. Più di mille persone sono venute al suo funerale. C'è stata una continua ondata di amore riversata da tutta la nostra comunità e per oltre un anno consecutivo. Al bene che è in te, Dan. Al bene che so che c'è, dico questo. Sei perdonato. Ma non conoscerai il perdono. Non lo sperimenterai. Non lo sentirai finché non dirai la verità. La verità è il catalizzatore che fa funzionare il perdono. La verità ti rende libero, ma solo quando la racconterai. Tutto. Ogni minimo dettaglio. Oscuro e sordido. A te stesso e al mondo intero. Per 457 giorni hai vissuto una bugia. Hai avuto il potere di mettere in moto un processo di guarigione per me. Per Joy, per te stesso, per tua madre e tuo padre. E per migliaia di familiari, amici e altri che sono stati colpiti da questo. Hai pensato ancora una volta solo a te stesso, non agli altri. E questo è costato caro a te e a noi. Più di quanto tu possa immaginare. Finché sei vivo hai ancora la possibilità di prendere atto di ciò che hai fatto. Di provare a fare ammenda e portare guarigione nel nostro mondo malato. Spero che tu colga questa possibilità. Per quanto riguarda Jess, ora è felice. È libera. Autonoma e pacifica oltre la tua comprensione. Ma tu sei un guscio del tuo vero te. Le hai detto nelle settimane prima di ucciderla che avevi fatto scelte sbagliate. Che tu possa scegliere bene ora. Dan, non credo ci sia alcun modo sulla verde terra di Dio che tu, o molti in questa stanza, capirai o crederai a questo. Ma è vero. Ti perdono e ti voglio bene. Certo, odio quello che hai fatto. Ma questo non significa che non posso perdonare e amare. E queste erano le sue parole. Jesse non meritava di morire. Avrebbe davvero provato a cambiare il mondo. Ma come lo stesso padre ci ha fatto capire, l'amore che ha riversato nella nostra terra è più importante della sua morte. Io sono rimasto davvero toccato da questa storia e spero che le parole di Buck vi abbiano fatto comprendere la sua posizione. Ovviamente io le ho adattate e contestualizzate alla nostra lingua, ma se volete capire ancora meglio ciò che ha detto e se volete anche capire il suo progetto, la sua fondazione, vi lascio tutti i link in descrizione. Se non li trovate ricordatemelo con un commento e ve li mando o li metto comunque subito. Sono davvero senza parole ragazzi, questa è forse la vicenda più triste che io abbia mai raccontato. E anche se non l'ho mai conosciuta questa Jesse, tramite le parole del padre mi è sembrato di conoscerla. Non lo so, a volte la vita è davvero una stronza. E niente, se questo video vi è piaciuto, per quanto triste, ricordate di rimanere nei paraggi. Se vi ho fatto compagnia, ricordate anche di massacrare i pulsanti iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Se invece sei ancora qui, io come al solito ti ringrazio. Ti ricordo di seguirmi anche su Instagram se vuoi farti i cazzi miei. E niente ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!